e ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale del vostro urgent oggi vi porto una nuova mod che mi avevate chiesto qualche tempo fa cioè la porta aerei ragazzi allora questa è la porta aerei che trovate nella missione del colpo al humane lab ragazzi dove dovete appunto rubare l'idra e se non sbaglio c'era anche un glitch per giocarci nell'online per averla poi alla fine della missione nell'online comunque adesso la esploriamo insieme io sto partendo dal fondo cioè la poppa questa unida come vi ho detto vediamo un po' che altro c'è ci sono un sacco di marine anch'io sono un marine molto tamaro non so se avete notato mi sono imbarcato clandestinamente ma nessuno se ne è accorto e niente qui stanno riparando un wazard che si deve che ha beccato qualche razzo di troppo stanno facendo un buon lavoro complimenti ragazzi continuate così questi qua non lo so cosa fanno comunque mi piace molto l'elicottero soprattutto il disegnino di miss zancudo eh ragazzi notevole poi qua c'è una cula che anche lui ha subito qualche colpo di troppo perché è in riparazione speriamo vada tutto bene e lo mettano in campo presto addirittura in due ci lavorano mamma mia comunque ragazzi adesso vi porto nella stiva della nave ovviamente noi possiamo entrare perché siamo a marine anche noi non ci fanno niente non è come nella missione ragazzi in cui sono tutti ostili allora scendiamo un po' giù qua è tutto un saldare in questa nave allora scendiamo giù e vi faccio vedere la stiva ragazzi quella appunto va più della missione se vi ricordate partite da qui ci arrivate col gommone poi entrate ammazzate tutti e fate il devasto allora qua ci sono un botto di jet che sinceramente non so come abbiano fatto a farli scendere qua giù però forse li hanno messi appunto da... li hanno caricati di lato in teoria si comunque sono tanti non so se nelle portiere vere ci sono tutti sti jet dentro la stiva boh forse si non so allora questo che cosa sta facendo vediamo un po' non so sta smanettando con un affare che non so che cosa sia ma va bene così ok poi cosa c'è ancora? ok missili da caricare pronti per essere lanciati qua cosa c'è? oh ho due che stanno parlando qua dove c'è il mare questo qui dovrebbe essere appunto l'entrata di carico penso degli aerei quando poi la porta aerei è ancorata al molo penso di si ok tutto regolare qua c'è un bellissimo hydra ragazzi che può siccome può decollare in verticale da qui parte senza problemi bello molto bello molto bello ragazzi questa mod è veramente ben fatta e piena di particolari sia appunto giocatori npc ma anche come vedete tanti oggetti insomma adesso torniamo su e vediamo un po' da dove passare passiamo di qua e saliamo un attimo ragazzi dalle scaline vediamo se è aperta sta porta si vai aperta allora però ecco non c'è niente qua e infatti devo fare tutto il giro cioè devo tornare da dove sono entrato giustamente comunque ne fa tempo ragazzi se vi è piaciuto questo video e questa moda lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale condividetelo mi raccomando supportatemi per altri contenuti se volete suggeritemi anche qualche altra mod che potrei portarvi sul canale prossimamente comunque adesso siamo usciti fuori ragazzi guardate qua un bel titan molto figo poi ci sono anche due bei jet che adesso ci freghiamo ragazzi in barba ha questo marine adesso io me ne vado col jet quale prendiamo ragazzi questo di sinistra ok vai il laser comunque è molto bella questa mod l'ho già detto adesso decolliamo in uno spazio ristrettissimo e ci becchiamo ciao a tutti bella